Io volevo dare un messaggio di tranquillità alla cittadinanza, l'amministrazione si sta impegnando per proseguire ovviamente il cantiere. L'assessore comunale Elisa Lodi rassicura i cittadini che in molti telefonano anche in redazione, preoccupati per quello che interpretano come uno stop ai lavori nell'ex comprensorio Polstrada di Roiano. In realtà l'assessore non lo nasconde, sono sorte due problematiche che hanno comportato l'adozione di una variante in corso d'opera. Nello specifico si tratta del ritrovamento di una pavimentazione ottocentesca per la quale poi è stata ovviamente interessata la sovrintendenza e l'ampiamento per quanto riguarda l'attività di rimozione dei carburanti usciti dalle cisterne che poi abbiamo asportato. L'accordo sulla variante è stato raggiunto pochi giorni fa e nel corso di questa settimana dovrebbe essere approvato come determina dirigenziale. Nel frattempo gli uffici tecnici di Palazzo Sipario si sono messi all'opera per affidare gli incarichi esterni e presentare il gruppo di progettazione la cui regia resterà comunque in capo al Comune per rispettare il cronoprogramma che prevede per il 2021 la fine dei lavori. Nel frattempo di questa attività necessaria per portare a termine questo primo appalto stiamo già lavorando per dare gli incarichi esterni per l'edificazione dei due complessi che poi verranno costruiti nell'area. Lavori che precisa ancora l'assessore Lodi procederanno a lotti per cui altri stop and go non sono improbabili e non debbono tuttavia destare preoccupazioni. Abbiamo la prima parte che riguardava le demolizioni con le problematiche che comunque abbiamo evidenziato poi avremo la progettazione che riguarderà l'edificazione della scuola, l'edificazione del parcheggio seminterato e poi il lotto che riguarderà la parte urbana che sarà poi l'ultimo lotto che completerà l'opera intera.